ciao a tutti sono sempre io stefanie d'ansu di my tour in italy con la nostra diretta di my tour for italy sempre alle ore 3 i complimenti siete sempre preparatissimi ma ve lo ricordo tutte le volte che alle tre siamo sintonizzati sulla pagina my tour in italy e vi ricordo come sempre il nostro template su instagram ieri e domani in viaggio continuate sempre nelle varie lingue a taggare soprattutto i vostri compagni di viaggio e a taggare my tours nelle storie ieri abbiamo parlato con la nostra silvia che salutiamo di nuovo e siamo siamo stati a verona e abbiamo parlato della storia meravigliosa di romeo giulietta sotto il punto di vista marketing se ve la siete persa non vi preoccupate continuate sempre a visitare il nostro sito e mettere like e commenta questa settimana è dedicata al veneto e oggi dove andiamo di bello oggi andiamo in un posto dove sono stata e non sono stata spiegarò dopo perché il sono e non sono e andiamo nel lago di garda e sirvione con la nostra katia ciao benvenuta ciao benvenuti a voi e grazie per avermi chiamato grazie a te io ho detto sono stata e non sono stata per un semplice motivo che spiego perché io come sempre sono andata al parco e non giustamente non c'è soltanto quello e dopo lo spiegheremo giusto e anzitutto cata ci fai una breve presentazione di te allora dunque io è da molti anni che studio tutto il territorio di verona la provincia il lago di garda le ville venete perché sono una guida turistica e diciamo che sono nata insegnando ai ragazzi facendo didattica quindi con gli studenti diventando prima un animatore culturale ambientale e poi dopo anni di corso sono diventata guida quando sono sono usciti gli esami no io mi ricordo ancora quando ho preso il patentino a venezia la fifa più grande della mia vita l'agitazione più grande proprio palazzo sherman dove ci hanno tartassato per bene però diciamo da allora non mi sono mai fermata di fare questo lavoro e di conseguenza che dire il nostro è un territorio talmente bello che deve essere visitato per forza quindi devi venire assolutamente devo venire perché l'ho visitata e non e infatti non c'è soltanto il parco di gardaland c'è molto da vedere infatti io in primizio ho sbagliato e voglio rimediare facendo un bel tour e visitandolo anche tra l'altro ve lo consiglio anche a voi perché ora che potremo piano piano cominciare a viaggiare riprendere la stessa routine di un tempo assolutamente godiamoci questa italia meravigliosa quindi cate iniziamo il nostro meraviglioso viaggio nel lago di garda e sirignone perfetto allora che dirvi intanto ma intanto diciamo subito che il lago appunto non è soltanto quello che si lega ai parchi di divertimento che fra l'altro vede non solo gardaland ma avete anche il cane va world con tutte quante le varie piscine avete il movie land quindi insomma ci sono i medieval times dove uno può andare ad assistere a questi giochi e questi tornei però è un luogo dove voi avete sia risorse naturalistiche quindi chi ama fare sport stare in mezzo alla natura può fare delle escursioni ce ne sono veramente tante e poi c'è la storia quindi la storia che la si può respirare in ogni singolo paese tenendo presente che comunque il lago di garda che è più grande più grande d'italia è suddiviso tra tre tre province quindi voi avete la sponda quella occidentale che è in mano a diciamo la lombardia quindi è lombarda va quindi da sirignone vero va fino su quasi alla punta più estrema nord avete la parte alta quindi con riva del garda che sta sotto trento e poi invece abbiamo la zona la sponda orientale che quella veronese ma ogni singolo paese è diverso l'uno dall'altro assolutamente quindi c'è una bella differenza se uno volesse stare sul lago guardate potrebbe veramente starci giorni e giorni perché ci si impiega un po di tempo per visitarlo già mi hai lasciato una curiosità infinita poi immagino il panorama panorama stupendo e diverso intanto ecco per dare due notizie così molto brevi ricordatevi che in origine il nome del lago era benacus e questa parola benacus deriva da un termine probabilmente di origine celtica che sta ad indicare corno perché nella parte alta il lago ha queste grandi diciamo sembrano promontori questi corni in realtà sembra di essere negli nei fiori di scandinavi perché è il risultato dell'erosione proprio dei ghiacciai no che ha portato a questa conformazione particolare ma nella parte sud voi non trovate più quelle montagne trovate le colline moreniche quindi percorrere il lago andare da sud a nord ci si trova di fronte a un paesaggio completamente diverso quindi già questo di per sé è una garanzia che non vi potete assolutamente annoiare poi diventa garda nel medioevo perché appunto c'è una come si può dire una rocca che ancora oggi per noi è la rocca di garda che è anche sede di una bella storia una bella leggenda e dal nome proprio germanico varda quindi luogo di guardia diventerà garda da lì poi muta non lo sapevo non lo sapevo è bellissimo e quindi ma molti possono andare anche per fare diverse attività nel lago c'è una domanda sì 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 nel senso che la parte a nord proprio perché il lago ha anche questa caratteristica di avere un sacco di venti che soffiano cioè ci sono circa una trentina di venti diversi ognuno ha la sua caratteristica che ne so uno soffia il mattino un pomeriggio e così via fa sì che sia molto ventilato e è molto noto la parte proprio quella di torbole la parte alta del lago per chi fa windsurf per esempio mai provato però potrebbe provare devi essere devi essere brava perché se si mette il vento forte e inizi a vedere il monte baldo come sono andrà male io non ti provo non ci provo perché non so se perché certe persone me lo dicevano ma non so se è così ma è dedicato anche alla pesca allora sì nel senso che uno dei piatti tipici del lago è il lavarello che è un tipo di pesce che proprio della del lago è una sorta di salmonide dalle carni bianche molto buono soprattutto se mangiato ai ferri infatti uno dei piatti tipici che che ci sono sul lago quando vado io se mi fermo a pranzo lavarello ai ferri quindi proprio è buonissimo ma è assaggiato io un ricordo che ho di aver mangiato per la prima e l'ultima volta perché non ho avuto poi più occasione è stato il riso al nero di seppia anche quello si è noto anche quello però noi tendiamo a mangiare il riso con la tinca quindi si tende a mangiare proprio il risotto perché fra l'altro nella zona bassa del lago dove poi ti sposti verso la pianura parlo per la parte veronese ma anche la zona mantovana c'è la produzione di riso abbiamo la produzione di riso quindi per noi diventa d'obbligo mangiare il riso e di solito si abbina il pesce quindi ecco il riso con la tinca o anche con la carpa ma la carpa più un pesce che viene pescato nei corsi d'acqua insomma ecco quindi già questo mi hai fatto venire voglia di pesce no è che ho questo ricordo perché mi ricordo di aver assaggiato un risotto buonissimo tra l'altro che infatti tutte le volte dico devo tornare lì per rimangiarlo e adesso ho una scuola bella e buona per ritornare tra l'altro ricordo a tutti che potete fare le domande innanzitutto durante la diretta ma anche dopo mettere like e soprattutto nel link metteremo il link per i tour del sito se vorrete poi in futuro viaggiare di nuovo e scoprire i nostri tour ecco qui il nostro link ma la domanda a parte le lunghe passeggiate e le foto meravigliose del panorama qual è quando ti capita di accompagnare anche i tuoristi dov'è che rimangono sempre a bocca aperta quando li accompagnate nel tour? allora ci sono come dicevo prima il lago è tutto magnifico cioè ogni località è fantastica ma ognuno ha la sua peculiarità per quanto riguarda ecco i luoghi io sono innamorata di Malcesine mi piace molto e la si vede da ogni punto questa immagine che voi vedete qui che è quella della Rocca di Garda è il luogo che ha dato origine proprio al nome del lago attuale vedete lì sopra dove c'è la parte piatta di questa sorta di piccola montagna vi era una struttura fortificata dove è stata imprigionata una regina una regina a cui era stato assassinato il marito ed è riuscita a fuggire e si è rifugiata poi in Emilia Romagna ha chiamato l'imperatore di Germania gli ha detto se tu vieni giù e mi salvi io ti consegno il regno d'Italia e così è stato si trattava di Adelaide della regina Adelaide che poi è diventata anche Santa Adelaide ed è stata madre di imperatore quindi è una bella storia adesso insomma è bella perché era così anche romantica però questo è uno dei luoghi poi dovrebbe esserci un'altra immagine se non ricordo male che è quella invece di Punta San Vigilio che è proprio lì vicino a Garda e lì c'è la baia delle sirene con tutte le leggende sapete che in ogni luogo nascono leggende si dice che il lago si è popolato da delle ninfe bellissime ecco una di queste ha dato anche origine alla leggenda del nodo d'amore che si collega ai tortellini quelli si trovano nella parte a sud del lago non la sapevo questa? sì è una storia bellissima anche questa il tortellino nasce dalla leggenda del nodo d'amore di due innamorati che prima di tuffarsi nelle acque del Mincio che è il fiume che esce proprio diciamo dal lago di Garda hanno lasciato uno scialle annodato con la forma proprio tipica del tortellino ecco quindi già questa è una storia di per sé osserverò il tortellino in maniera diversa adesso esatto però sicuramente uno dei posti miei preferiti è Sirmione è Sirmione perché Sirmione è una delle perle del lago insieme a Malcesine così era stata definita ma è particolarissima ed infatti quando si arriva a Sirmione si rimane incantati per un motivo perché voi trovate questa piccola diciamo una codina infatti il termine latino di Sirmione è proprio quello di piccola diciamo coda che si protende in mezzo al lago e qui vedete proprio diciamo l'immagine di Sirmione com'è quindi si intravedono delle mura sono quelle che si legano alla darsena del castello scaligero e è assolutamente obbligatorio fotografare quando è in fiore questa bellissima bougainville che va proprio a coprire la strada e si trova sulla parete proprio di una casa quindi è un luogo che vede strutture antiche si parte dall'età romana perché Sirmione comunque ha visto l'insediamento romano si passa poi all'epoca dei goti arriviamo ai longobardi quando la regina ansa ha fondato un monastero e poi si arriva ad avere anche lo sviluppo termale perché Sirmione è famosa proprio per la cura termale ma già l'avevano capito gli antichi romani e quando si arriva alla fine di questa piccola diciamo piccola penisoletta si giunge al sito archeologico delle grotte di Catullo quindi è una cosa spettacolare e come se non bastasse ecco questo è il castello scaligero che proprio si presenta dinanzi agli occhi quando si arriva si passa attraverso il ponte elevatoio e si entra dentro Sirmione che ha soltanto 500 abitanti cioè gli abitanti di Sirmione sono solo 500 ma è pieno di alberghi e di luoghi dove ci si può appunto fermare per bearsi di queste di queste acque termali perché l'acqua viene proprio da una fonte la fonte boiola che vede una temperatura pensate esce una temperatura di 69 gradi e mezzo quindi noi d'inverno andiamo a Sirmione a farci le cure quindi ci divertiamo anche d'inverno e abbiamo le piscine con l'acqua termale in riva al lago quindi fuori fa freddo ma noi siamo lì in mezzo all'acqua vicino al lago siamo e questa è l'immagine dalle grotte di Catullo pensate a questi antichi romani che avevano le loro ville che si proiettavano e guardavano questo lago quindi dobbiamo pensare come essere tipo a Pompei con le grandi ville che si affacciavano sul mondo è la stessa identica cosa quindi voi qua vedete proprio la parte verso nord del lago di Garda guardate è una cosa strepitosa cioè Sirmione fra l'altro è proprio un gioiello voi trovate tutto e non dimentichiamoci che per esempio Sirmione è stata anche sede della di una casa che apparteneva a Maria Callas quindi è stato luogo dove i più importanti personaggi del jet set sono arrivati insomma nel corso del novecento ecco tanto per per dirne una poi sicuramente sarà stato luogo di molti film girati a Sirmione o il lago di Garda sicuramente per un panorama così meraviglioso senza fiato è il minimo e sicuramente penso che sia un'ottima opportunità per molte persone per godersi un po di pace dopo questo periodo consiglio assolutamente di andare nella natura di godersi la bellezza che abbiamo in Italia e soprattutto anch'io già quando hai detto terme mi sono ricordata aver visto molte foto inerenti a Sirmione tra l'altro io sono molto curiosa e consiglio a tutti vivamente di andare a visitare di conoscere ma tra l'altro Katia abbiamo dei commenti te li faccio vedere Daria Giampaglia dice ciao che voglia di venirci da Napoli un bel viaggio ma ne vale sempre la pena appena possibile conto di portarci la mia famiglia alla scoperta della nostra bella Italia bravissima Daria è bellissima bellissima infatti ecco ciao da Milano da Milano mamma mia questo periodo qua manca veramente il contatto vero proprio per riuscire a ritrovarci mamma mia che roba io non vedo l'ora è bellissimo poter anche se a distanza cercare di viaggiare in questo modo per avere sempre una bella esperienza e torneremo sicuramente a viaggiare daremo molto più valore al viaggio esatto e poi a Sirmione un'altra cosa bella è che si può fare il giro del lungolago ma in questi ultimi anni Sirmione è stata molto ben sistemata cioè hanno apportato anche delle migliorie all'interno quindi voi passeggiate in questi piccoli vicoletti siete inondati dai fiori cioè è stupendo credetemi proprio un piccolo angolo dove bisogna assolutamente andare che infatti sento la tua passione nel dirlo perché immagino che hai tanti luoghi del cuore uno ce l'hai detto che è Sirmione solo quello hai ce ne dici un altro sul lago di garda come dicevo anche la zise per esempio la zise ancora un suo castello e lì c'è un piccolo porticciolo potete farvi io mi ricordo ancora una passeggiata che ho fatto a piedi da diciamo da bardolino che è la località dopo la zise no fino ad arrivare a garda sotto il sole ma proprio costeggiando il lungolago quindi sono tanti luoghi anche malcesine è un castello che sorge su una roccia no c'è salò per esempio cioè anche chi ama la storia può trovare ogni paese fatto a misura su di lui perché per esempio peschiera è stata una città fortificata nel 1500 ma anche durante l'epoca delle guerre del risorgimento salò c'è stata la repubblica sociale italiana quindi c'è una villa che è notissima villa feltrinelli che era dove stava mussolini insomma avete di tutto di più avete sul lago abbiamo tutto manca soltanto il viaggio dobbiamo viaggiare lo dico sempre in diretta viaggiamo 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 e vi daremo anche l'opportunità di farlo perché potete nei commenti ripeto di nuovo per chi non l'ha sentito andare sul sito e vedere il tour adatto a voi così potete andare a trovare Katia io stessa andrò a trovare Katia t'aspetto t'aspetto ma visto che sto facendo un bel corso di dialetti io vorrei imparare una parola da te in dialetto sì allora per dire ragazza noi diciamo butela 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 quindi se io voglio dire sei una bella ragazza ti dico nel nostro dialetto tessina bella butela oh grazie tessina bella butela mi piace grazie mille Katia imparato un'altra parola mi piace tantissimo imparare questi dialetti meravigliosi io do un bacio innanzitutto ti ricordo che io saluto sempre battendo il 5 alla fotocamera sei pronta al nostro saluto? perfetto prontissimo allora due tre pronta ok vai yeah distanti ma vicini grazie mille Katia e grazie a voi per seguirci per condividere mettere like condividete con i vostri amici se sono anche curiosi di viaggiare vi ricordo ancora il template viaggiare anche con la fantasia viaggiate con noi ieri e domani in viaggio torneremo a viaggiare taggate i vostri compagni di viaggio nelle varie lingue disponibili del template e condividete anche la storia con my tours grazie mille ci vediamo domani come sempre alle ore 3 continuate a taggare i vostri amici a condividere grazie mille grazie Katia per il viaggio di oggi grazie davvero grazie ciao